Buongiorno, pensavate non ci fossi, invece eccomi qua, 7 e 12 minuti, un po' più in ritardo, un po' più lunghi rispetto al solito, ma ci siamo, ci siamo, eccoci qua, venerdì 8 novembre, tanti auguri alla mia mamma, oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri alla mia mamma e sono le 7 e 12 minuti, iniziamo questa giornata insieme. Thanks God is a Friday, ma attenzione, 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 fermi tutti perché c'è il sciopero, eh sì, tutto l'entusiasmo della fine settimana ci fa pensare però a una cosa sola, che oggi c'è lo sciopero dei mezzi, attenzione perché non è tutto come al solito, ma un po' sì e un po' no, sono fasce di garanzia garantite appunto solo per le metropolitane e per alcune fasce, per alcune scusate, linee di superficie tipo la 9091, la 95, la 98, ma attenzione perché appunto gli altri mezzi non hanno le fasce di garanzia, quindi già in questo istante alcuni mezzi a Milano sono, in alcune linee dei mezzi di Milano sono sotto sciopero, ok, quindi sono, ah, dovete stare all'occhio, nel senso, le metropolitane vanno, fino alle 8.45 le metropolitane vanno e poi ripartiranno alle 15, dalle 15 alle 18, ma attenzione perché gli altri invece non sono garantiti, quindi giornata difficile, ma finalmente è novembre e questo è Wycliffe Jen con Till November, finalmente l'ho potuta mettere, c'è una lunga storia dietro questa canzone, che è stata una delle canzoni che mi ha più segnato l'adolescenza, non so perché, ma era così, Cioè, ero grande fan dei Fugees e quindi di Wycliffe Jen, di Lori Neill, ovviamente, pensate che il primo concerto da solo che ho visto in vita mia, il primo concerto da cui da ragazzino sono andato, è più o meno il 97, credo più o meno, 17 anni, alla propaganda, che ormai non esiste più, lì di fianco alla Bucconi per intenderci, il concerto appunto dei Fugees, che rappresentavano il loro primo album famoso, in realtà non era il primo album, insomma, il primo album che gli ha portato in giro per il mondo, che era The Score, bene, poi Wycliffe negli anni poi fa anche una carriera solista, come anche la meritatissima e bravissima Lori Neill, Wycliffe fa uscire questa canzone poi, qualche anno dopo, tanto che ho anche il vinile di questa canzone e quindi rimane un po' una canzone che mi riporta appunto a quegli anni. Quest'estate, a un certo punto, anzi forse ancora prima, questa primavera, ancora in uno dei viaggi, piccoli, piccoli viaggetti che si fanno ogni tanto, su una radio locale, ma eravamo tipo in zona Umbria, una roba del genere, qualcosa del genere, sento questa canzone. Mi ritorna in mente, dico, cavolo no, la devo mettere in trasmissione, no? Il problema è che, e io sono un po' da quel punto di vista, un po', diciamo, gli autismi sono vari, no? Ecco appunto, forse qualcuno è entrato anche nel mio spettro e non riesco a mettere in altri mesi, ho detto no, devo aspettare novembre. Noi abbiamo la scheda musicale e tutto, io già all'epoca, intorno a marzo-aprile, era giù di lì, ho segnato che a novembre avrei messo questa canzone. E quindi ho voluto chiudere la prima settimana della programmazione di novembre di Good Morning Milano con questa canzone che appunto era lì, pronta, sulla rampa di lancio, fin dalla primavera di quest'anno. No, vabbè, capite come in realtà si costruiscono anche queste trasmissioni, no? Insomma, io sono ben contento a volte anche di condividere le cose che succedono dietro, le quinte, no? I backstage, anzi, se volete ogni tanto potete anche dare un'occhiata sul nostro canale Twitch o su YouTube o su Facebook, c'è la nostra diretta video. E vedrete che ogni volta che parte una canzone, nella parte appunto video, andiamo con una webcam in regia, in redazione. E' bello vedere come ad esempio alle sette del mattino, siamo qua sempre in uno, massimo due persone, poi man mano durante le due ore di trasmissione la redazione si comincia ad animare, a riempire. Quindi tutti gli studenti, soprattutto, che vengono qui a conoscere, a imparare qualcosa davvero, a fare quel tirocinio curriculare che sono costretti a fare dal loro piano di studi, ma che vengono qui a imparare. Adesso abbiamo anche un'alternanza scuola-lavoro, per esempio, e quelle alternanze scuola-lavoro, quel PCTO, adesso si chiamano così, che sono serie, belle, sono interessanti, gli si fa vedere qualcosa che ha senso, che può piacere o non piacere. Vabbè, quello poi ognuno ovviamente ha il suo, ma che sicuramente non è andare a fare fotocopie nella biblioteca comunale, non è andare a fare in azienda, che dove magari non ti fanno toccare niente, solo a vedere dall'altra parte di un vetro qualcosa che succede nella produzione. O non è neanche quello di andare invece magari a fare lavori un po' più pericolosi, che insomma, invece magari un ragazzo di 17, 16 anni, ha 18 anni, comunque insomma, non è sempre, insomma, un po' di attenzione ci vuole. Invece noi siamo ben contenti di ospitare qui, in questo caso, abbiamo un'alternanza scuola-lavoro che arriva dalla Rosa Luxemburg, che studiano proprio quello che noi facciamo tutti i giorni. Quindi, insomma, ci viene, siamo ben contenti di condividere il nostro sapere con altri giovanimenti, che magari un giorno, chissà, appunto, dai microfoni di Crystal Radio, di altre radio, ci racconteranno tutto quanto. Il linguaggio del corpo, Paolo e Chiara, Big Mama, il linguaggio che è quello che usate anche voi per scriverci i whatsapp al 33178535555, come quello che arriva da Alberto, che insomma, devo dire che l'avete presa bene questa cosa dello shop, però è voi che ci ascoltate. Allora, benvenuti al giorno più lungo, amici di Crystal Radio. Il giorno più lungo viene definito da Alberto, che dice, in strada adesso vedo la 95, ma degli extraurbani nessuna traccia. In teoria è così, sì. Se stanno seguendo le regole che ci hanno detto, le regole d'ingaggio, sono queste, sì. Si sussurra che quella di questa mattina sarà la rimodulazione definitiva del servizio pubblico ATM. Aiuto, no. Questa mi sembra veramente eccessiva, però spero che sia solo un rumor senza motivazione, così che, insomma, la gente si è presa dal panico. Perché la gente è presa dal panico in questo momento, diciamocelo. La gente è presa dal panico. Noi abbiamo la nostra rivista Ginevra, che è stata due settimane in sbattimento, perché si vociferava di queste non fasce di garanzia e cose del genere. Ma con tanto i genitori che da crema la chiamavano, cosa succede? Veramente la gente va in sbattimento per questa roba, perché veramente è complicato. Adesso il nostro ospite che sta arrivando qua, che so che è già in viaggio, è già in sbatta, come si dice in questi casi, perché non sa come tornarsene a casa dopo, ok? Nonostante lui prenda M5, M1, M4, che lo faccia questo giro qua, no? Eh, sono tre metropolitane, però alle 8.45, anche quelle si fermano. E quindi, noi come facciamo? Noi finiamo alle 9. Vedremo. Grazie, anzi, ad Alberto, anche perché scrive auguri alla mamma di Fabio, grazie mille. E anche all'amico Giorgio, che ci uniamo anche noi agli auguri per Giorgio, che oggi, appunto, compiono gli anni entrambi. Altro WhatsApp che ci arriva, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio da quella di Bergamo, buongiorno. Oggi c'è lo sciopero anche qui a Bergamo. E quindi, che palle, chissà, che delirio. Benissimo, ecco, vedete, la gente è veramente nel panico più completo per sto sciopero. È veramente, non ce l'aspettavamo? Sì che ce l'aspettavamo, lo sappiamo benissimo. Di solito, già di solito, si va in sbattimento per lo sciopero, pensate oggi. Perché la grande differenza qual è, in realtà, che M1, M2, M3, M5, M4, fino alle 8.45 sono attive e poi si fermano, ovviamente, alle 8.45, alle 15 e poi dalle 18 fino a fine servizio. Come è sempre stato così. Anzi, in realtà, la tratta di M4 da San Babila Linate è garantita tutto il giorno, anche durante le fasce dello sciopero. Il problema sono le linee di superficie, le linee di superficie e le linee extraurbane, che non sono garantite mai. Mai, in questo momento, molti mezzi sono già fermi. Ci sono delle linee che vanno avanti, invece, fino all'8.45 e che poi andranno avanti dalle 15 alle 18, che sono dei tram 2, 3, 4, 9, 10, 12 e 24. E invece, per quanto riguarda gli autobus, 45, 54, 56, 57, 58, 60 sulla ruota di Milano, 74, 81 e poi la 90, la 91, la 95 e la 98. Ad esempio, sto fondentendo che nell'elenco non c'è la 92, che è un altro mezzo che è abbastanza fondamentale e importante. Nei tram non c'è il 15, ad esempio, non c'è il 14, sto vedendo in questo momento, che sono già fermi. Quindi quali saranno, se l'autista sciopera, saranno e potrebbero star fermi tutto il giorno. Quindi quelle linee lì avranno sicuramente più ripercussioni, anzi, mi viene da dire, quasi sicuramente saranno fermi, perché cosa succede? Se lo sciopero è su tutte le altre linee, e abbiamo delle garanzie invece su alcune linee, la gente si sposterà su quelle linee lì, cioè gli autisti verranno spostati su quelle linee. Cristina Aguilera con Beautiful, alle 7 e 38 minuti. Prima di andare avanti, un WhatsApp che è arrivato da Alberto, che ci dice, pensate che i nipoti di Alberto sono dovuti tornare a casa perché non ci sono i bus per arrivare a scuola. E poi anche il WhatsApp di Adriana, invece, che ci dice, buongiorno, ma tu vuoi che io arrivi a lavoro senza voce? Perché si stava cantando Luna Pop e Cristina Aguilera, che ovviamente con Luna Pop lì si canta a squarciagola. Buongiorno, Eribe. Buongiorno. Comunque se penso a Beautiful io penso solo a una cosa, posso farlo? Alla sopopera? No, esatto, ma la sigla... A tutti quanti, non so se vi ricordate chi sono i Persiana Jones, vi consiglio di cercare la versione dei Persiana Jones di questa sigla. Ok, ma secondo voi Beautiful c'è ancora? Sai che non lo so, me lo scrivete per favore, 3317853555, sapete che ho il dubbio che ci sia ancora... Di direi. Ma forse no. È un programma che io guarderei. No, io no. Io sì. Mia nonna mi costrugeva a guardarlo, era bello. Anche la mia, anche la mia era molto bello. Era bello perché poi scanciava sempre una mancia alla fine, quindi... Che ti dava la manciata per guardare Beautiful. No, vabbè, poi con il fatto che ero lì, gli facevo pena, allora appunto mi mollava qualcosa, però vabbè. Vabbè, madonna, che vita viziata. Sì, molto. La mia nonna Bruna mi ha viziato davvero, davvero tanto. Forse troppo. Ok, povere le persone che vivono con te. Ok, andiamo avanti. Puoi stare dietro al microfono, grazie. Esatto, va bene, dai, andiamo avanti. Iniziamo a dire le cose, gli eventi a cui io non andrei. Oggi le parole sono poche, ma sono tutte rivolte allo sciopero dei mezzi. Ecco, gli eventi a cui tu non andrai, bene. Sì, gli eventi a cui io non andrò sono, alcuni sono vecchi, ve lo dico di già. In che senso, sono già passati? Nel senso che li ho già fatti, li ho già detti. Ah, ok, no, sono già passati. Nella puntata di lunedì di Trend Me. No, no, non sono passati, adesso mi metto a fare le cose, potrei. Eventi passati a cui non sarei andata. Non sono andata, non sono andata. Comunque, Focus Live, Milano. Cos'è, 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 cos'è? Focus, il giornale, fa uno spazio live. Bellissimo. Sì, molto bello, un peccato che siano pieni di nerd. Ma è cos'è? Al Museo della Scienza e della Tecnica inizia oggi Spazio, Tecnologia e Ambiente dall'8 al 10 novembre. Vabbè, so dove andare questo weekend. Ecco, divertiti, baci da solo. Va bene. Però, volendo, sabato, puoi andare anche a un evento a Marco Ord. Al forum di Asago c'è il croncetto di Brian Adams. Vedo tutte queste ragazze degli anni 80, nel senso che non che sono nate negli anni 80, ma che erano già grandicelle negli anni 80, che si vanno a ascoltare Brian Adams, che tra l'altro è un gran figo ancora. Deve avere 16 anni, più o meno negli 80. Eh sì, secondo me sì. Però adesso non so bene in che anno sia uscito Brian Adams. Forse qualcuno al nostro numero lo può sapere. Sì, va bene. E ce lo dirà. È bello quante cose non sappiamo e dobbiamo chiedere aiuto da Carlo. Ragazzi, io voglio dirvi, questa rubrichetta è una rubrichetta storica ormai, ma comunque prenderla da un'altra rubrichetta che si chiama, che si chiama? Non lo so. Piccola guida non approfondita. Ah, ok. E così è la piccola guida non approfondita degli eventi. Ah, perfetto, ok. Ok, lunedì. Lunedì. Hai da fare alle 21? Ho finito appena, c'è Trendy. Esatto. Ma c'è anche Emma. Cioè, è finito Trendy. Emma in the forum. Ah, il concetto di Emma? Sì, che tamarra, raga. Sì, poi mi piace tanto a Emma. No, io non credo che ce la potrai fare. Un intero concerto no, dai. Sì, Emma è un po' come la Pausini per me. Cioè, nel senso, vorrei tanto essere amico loro, ma non ascoltare le loro persone. Ah, intanto la Pausini e Emma giaccano in due campionati diversi, completamente. No, di simpatia no, secondo me. No, insomma. Entrambe tutte simpatiche, secondo me. Anche nella simpatia. Vabbè, ma tu ne conosci, no? Ne sai tu, cioè? No, io non lo so niente. Io non so niente, so solo che non ci andrei. Va bene. E ne ho altri tre, però. Dai, ce li dici fra poco, allora. Sì, dai, vi dico troppo. Dopo una prossima canzone, che so questa invece piacerti e magari ci andresti anche a un concerto suo. Eh, non lo so, tu ci andresti a un concerto di Regina Spector? Assolutamente sì. E allora ascoltiamoci Regina Spector con Fidelity, 7.42 e Crystal Radio. Regina Spector con Fidelity alle 7.46 minuti, Crystal Radio, qui con Eri B, per gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe. Nel frattempo al 3317853555 non ci danno informazioni, perché nel nostro pubblico, ma ci danno i giudizi loro. Ah, ok. E quindi, Nello dice, pausini tutta la vita, Emma pollice verso. Anche per me. Siete già incattiviti così a quest'ora. E poi arriva un messaggio di Alberto che dice un saluto a Eri B. Ciao Alberto, Emma molto top nella recitazione. Ah, sì. A casa tutti bene. A casa tutti bene. È la serie di Muccino, dove urlano tutti, come sempre. Lei fa delle urlate pazzesche. Adesso c'è il nuovo film di Muccino, no? Devo andarlo a vedere, perché non posso perdere nessuno. Ma lo so se sapete che è stato girato due volte. Nel senso? Nel senso che il film esiste sia per il mercato italiano che per il mercato internazionale. Sì. Tutte, tutte le scene sono state girate prima in italiano e poi in inglese. Muccino è folle. Sì, lui è veramente folle ed è un regista. Sì, sì, sì. Follemente lo amiamo per questo. Sì, 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 va bene, va bene. Andiamo avanti. Come te nessuno mai. Mello mi manda un messaggio. Anche lui dice, Fabio mi saluti Alberto. Va bene, te lo saluto. Ciao Alberto. Te lo saluto anch'io. Ciao Alberto D'Anello, va bene. Facciamo così. Va bene, andiamo avanti. Evento degli eventi a cui io non andrai è uno degli eventi classici dove io non andrò mai. È Leikman! Che bello! Donne motori, come mi piace proprio. Va bene, non è male. No, assolutamente no, ragazzi. No, e sono vicina a tutte le hostess che saranno presenti all'evento. Ma alcune magari piace anche. Cioè, gli piace anche fare... Può essere, ma io le sono vicine allo stesso. Va bene, ok. Ok, a te piacerebbe? Stagli vicino, sì. Mamma mia, che mascolinità tossica. Andiamo avanti. È un po' mascolinità tossica l'Ekma, l'Ekma. Non lo so, ma quando ho parlato di Ekma, motori così, ho pensato, però magari c'è il simulatore di Formula 1. Ecco. Quindi, pensa, non ho pensato alle donnine, ma ho pensato al simulatore di Formula 1. Perché qua abbiamo delle altre problematiche. Quindi forse era meglio se pensavo di stare di fianco alle donnine. Ma non lo so, guarda. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Dinos Alive. Per la prima volta a Milano... Dinos. Dinos? Alive. Alive. Sì. Per la prima volta a Milano la più sorprendente esperienza immersiva dedicata al mondo dei dinosauri. Eh, Jurassic Park. Raga, quanti bambini ci saranno? Eh, tanti. Ma perché i bambini sono così infognati ai dinosauri? Perché sono una cosa... Ce lo chiedevamo io e M&M lunedì. Sono una cosa fantastica. Non siamo stati capaci di rispondere. Io credo che sia perché un po' ricordano i mostri. Ah, dici. Un po' sai che in realtà sono una cosa... Cioè, non sono inventati, no? Sono stati reali. Comunque, nel senso, ci sono esistiti davvero. Ci sono i fossili. E appunto, secondo me, è proprio una voglia. E poi è un po' come i Pokémon, no? Perché ci sono le varie... I collezioni. No, sì, perché ci sono tutte le varie famiglie, tutte le varie specie. Ma tu sai che usciranno dei nuovi Pokémon? Sì, ho sentito, ho sentito. Usciranno dei nuovi Pokémon perché sono stati ritrovati questi disegnetti di Pokémon che usciranno nel prossimo futuro. Sì, sì, no, perché uscirà la nuova versione di Pokémon. Adesso non so che colore siamo arrivati, ma sì, usciranno... Ringrazio le dirette di un'altra radio a Luca Comics, che ovviamente è un altro degli eventi dove non andrò mai nella vita, ma proprio neanche è fucilata in testa. Ok. Volevo concludere, ma non so se è ancora dello spazio o meno, volevo concludere con un evento che mi è capitato, pensate, come pubblicità su Instagram. Quindi Instagram mi conosce veramente, veramente bene. Ma magari sa della tua rubrica. Esatto, è probabile. O perché magari cerco ovunque questi eventi. che inizia questo oggi e va davanti domani e domenica al Parco Verdi di Corsico. Ok. Sei pronto? Cosa ci potrà essere? Non c'è la piscina, non c'è la piscina. No, non è, quello è il Parco Giorgella. Ah, no, non lo so. Ok, al Parco Verdi di Corsico c'è la Sagra del Fungo e del Tartufo. Tipico di Corsico. Amici, Corsico non ha boschi dove andare a cercare funghi e tartufi. Funghi magari sì, tartufi non lo so. Nella prossima settimana vi darò un altro evento che ci entra con i tartufi, che ho trovato, è veramente una roba di un'assurdità pazzesca. Ma questa è la chicca per la prossima settimana. Però adesso, cara Proloco di Corsico. Parliamo io e te, ma sicuramente sì. Parliamo io e te. Ma perché fare una Sagra del Fungo e Tartufo quando si poteva fare, che ne so, il Fungo, Corsico è pieno di pugliesi, della mozzarella, la gioiella, i taralli e cose del genere. Invece siamo andati a finire su Funghi e Tartufi. A me gli piaceranno. Vi giuro che mi piacerebbe fare un salto, che non ho tempo. Mi piacerebbe fare un salto per vedere come è organizzata. Speriamo che il tempo legga, almeno poveri Cristi. Oltretutto, come giustamente ci dice Alberti, che dice Funghi e Tartufo, carissimo oltretutto. Eh, sicuramente, sicuramente. Perché poi ricordiamoci, Corsico. È, is burning. No, a parte is burning, ma prima o poi diventerà anche un comune di questa città di Milano. Un comune, sì. Un municipio. Un municipio, poi diventerà parte integrante di Milano. Sì, ragazzi. Corsico è Milano. È come se facessimo una sagra del fungo e tartufo in piazza Duomo. Beh, magari c'è. Vabbè che tra poco arrivano le bancarelle, i funghi e i tartufi sono sempre lì. C'è anche di peggio, sono i pizzocchi. Mamma, ragazzi, ragazzi, stanno per arrivare. I canederli, i canederli. Mamma mia. Stanno per arrivare le bancarelle sotto al Duomo. Eh, non sei contenta? No, no. Quelli sono al pari della fiera dell'artigianato. Pure? Vabbè. E.B., grazie. Grazie a voi. No, non c'è più nient'altro. No, no. No, io questa mattina faccio fatica tantissimo a parlare. Molto probabilmente l'umidità. Ah, può essere per quello. Non è tanto il freddo, ma quanto l'umidità. E poi perché mi sono rotto un dito. Ma non si sa se è rotto. Sei tu che lo dici da mezz'ora. Sei un osteopata. Ma cos'è un osteopato? Un osteopatico, semmai. Ho il pollice un po' gonfio. Vabbè. Se lo sono muota. Oppure uno con un martello in mano così. E va bene, è andata così, ragazzi. È stato bello. Se mai dovesse succedermi qualcosa, portatela avanti voi questa rubrica. Va bene. Grazie per il tuo lasciato, allora. Va bene. Buon weekend e divertitevi a tutti questi eventi dove io non andrei... Ma c'è qualche evento a cui tu andresti? Sì. Tipo? Quelli dove non ci sono i bambini, vorrei andarci tutti. Ah, ok. Allora, non ci devono essere bambini e gente veramente infognata male. Ah, è un po' difficile. Cioè, tipo, il salone del libro, dove ci sono tantissime persone infognate, non ci andrei. Cioè, allora, di base la discrimine sono bambini e tantissime persone. Comunque, il cinismo di Eribi di prima mattina è meraviglioso. Questo è il Whatsapp che manda Adriana. Pensate voi che pubblico abbiamo. Esatto. Questo è il pubblico che ci meritiamo. Grazie. Grazie a tutti quelli che ci avete ascoltato. Grazie anche Anello per i suoi messaggi. Grazie Eribi per i tuoi eventi. Grazie a voi per avermi invitata. Va bene. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui. Ho già visto che sono arrivati gli ospiti della prossima ora. Quindi adesso il giornale radio, un po' di musica. E poi torniamo qua in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano. Fino alle 9 in diretta qui tutta la mattinata. E poi mi raccomando, magari salvate la notte. Anzi, save tonight. 8 e 10 minuti Crystal Radio. Good Morning Milano. Vi ricordo sempre sui 96.2 FM. E poi sul DAB Plus in tutta la Lombardia. E ovviamente se volete invece andare oltre confine potete tranquillamente seguirci con la app per iOS Android e sul sito internet crystalradio.it. Questa mattina si parla di territorio, si parla di mobilità, si parla di politica. Tutto questo lo si può fare grazie a un consigliere municipale che è qui con noi, che è Davide Borghi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a chi ci segue e appunto a chi ci vede. Buongiorno Davide, consigliere municipale del Municipio 4, giusto? Sì. Il Municipio 4, ricordiamo così velocemente qual è il Municipio 4? Allora, il Municipio 4 è, parliamo di quartieri per essere appunto più chiari, Forlanini, Porta Vittoria, Porta Romana, Rogoredo, Santa Giulia, Corvetto, più o meno li ho citati tutti. Perfetto, abbiamo capito dove siamo ubicati. Diciamo che tu sei molto preso dal tema della mobilità e questa è una giornata perfetta oggi. Tu anzi, sei arrivato con i mezzi, com'è la situazione là fuori in questo momento? No, non c'è nessuna, diciamo, la folla non è ancora in delirio, mettiamola così. Sì, ho preso la metropolitana per arrivare qua. Per adesso tutto posto, vediamo. Fra mezz'ora più o meno le 8.45 poi dovrebbero finire le facce di garanzia per alcune linee metropolitane e vedremo che cosa succederà. Tema della mobilità che a Milano, insomma, è fondamentale. Anche il fatto che comunque ormai ci sia uno sciopero praticamente ogni 15 giorni fa capire che, insomma, il tema è molto caldo. Sì, fa capire come ci sia la necessità di avere stipendi più alti. Io credo che sopravvivere, non vivere, sopravvivere a Milano con 1.500 euro al mese non è possibile. Non è possibile non perché lo dico io, ma perché se un affitto per un trilocale costa 1.200, 1.300 euro, capite bene come fa una persona che magari ha famiglia, ma magari anche non ce l'ha, a solo pensare di sopravvivere. E anche uscendo dalla città, noi ci rendiamo conto e lo sappiamo sempre di più di come città come Sesto San Giovanni, Segrat, città nell'Interland, abbiano visto un lievitare dei prezzi, delle affitti e delle vendite delle case legato al fatto che arriva la metropolitana o semplicemente, io direi più banalmente, per una speculazione che è senza precedente. Sì, perché poi c'è quella cosa di, no, arriva la metropolitana, vedrai adesso casa tua, avrà un valore pazzesco. Sì, ma poi dopo, se io voglio riempire a casa, sarà un problema comunque lo stesso, perché tutte le case poi hanno un valore pazzesco. Quindi questa cosa di tutti contenti, perché il valore delle case aumenta. Adesso leggevo se un possibile prolungamento della M1 verso Quartirone, dopo Bisceglie, potrebbe ad un aumento del 10%. Io ho capito, ma vuol dire che neanche maggio, che è l'ultimo baluardo delle case ha un prezzo più o meno ragionevole, si perde anche quello. Sì, senza contare appunto, diciamo che già i prezzi lievitano di per sé, perché vuoi l'inflazione, vuoi un aumento progressivo nel corso di anni che è diventato esponenziale e invivibile. Quindi lo sciopero diventa l'unico modo che hanno i lavoratori. Eh, perché questo è il tema, ma non c'è un altro modo. È possibile che poi, perché poi lo sappiamo, no? Il milanese medio, e mi ci metto a volte anche io, mi chiedo scusa. Eh, ma è possibile, io però devo andare lì e mi devono rompere le scate con sto sciopero. Lo sciopero purtroppo ricade chiaramente sugli utenti, lo sappiamo molto bene. Il problema è che, secondo me, bisognerebbe, effettivamente noi proviamo a farlo quotidianamente in municipio, provare, la famosa frase famigerata a volte, sedersi a un tavolo, no? Cioè, io credo che veramente la collaborazione, il lavoro, in questo caso tra ATM, i sindacati, le parti sociali, i lavoratori, possa dare frutti. Poi, purtroppo, in questo momento non si trova una quadra. Chiarissimo. Allora, adesso, appunto, andiamo con un po' di musica, ma poi continuiamo a parlare con Davide Borghi, continuiamo a parlare, appunto, di mobilità, ma non solo, perché poi i temi sul municipio 4 sono tanti. E poi, sai Davide, se tu vai a casa senza rispondere a certe domande, in cui poi la gente mi scrive, ah, ma non gli hai chiesto quella cosa? E quindi, dirò direttamente a te, quali sono i temi caldi? Fra pochissimo. Zucchero con Baila Morena, le 8 e 18 minuti, qui su Cristal Radio, Good Morning Milano, Davide Borghi, Municipio 4, consigliere del Municipio 4, i municipi, quanto ci piacciono i municipi di Good Morning Milano, lo sanno benissimo, sia i municipi che quelli del Comune Centrale, infatti abbiamo sempre qua quelli del municipio, pochi quelli del Comune. Non vengono contenti quando vengono qua. Comunque, no, non è vero, abbiamo anche i consiglieri comunali che vengono, dai. E ci piace, ci piace dare spazio alla politica, perché la politica fatta come la fate voi, e lo dico anche a prescindere dal colore con cui la fate, è quella politica che, insomma, serve a noi cittadini, perché è la politica di prossimità. E infatti, quando parliamo di mobilità, adesso abbiamo parlato dei grandi temi della mobilità, appunto, che magari il municipio poi più di tanto non può fare in quel tema, cioè sugli stipendi di ATM non credo che si possa mettere il municipio a fare molto, ma può fare altre iniziative per un municipio, o può proporre altre soluzioni, ad esempio. Lo so che ieri, quando è che è stato il consiglio municipale ieri? Ieri sera c'è stato un attimo di... Sì, noi abbiamo presentato, allora, anzitutto, il municipio, no, non può fare in modo che gli stipendi delle dipendenti ATM crescano, no, ma anche perché poi lì c'è tutto un tema che, avendo, diciamo, stipendi che sono spesso simili tra l'anno del sud del paese, come fanno a mettere su famiglia se il costo della vita a Milano non è quello di Reggio, ad esempio, o di qualche altro posto nel centro e nel sud. Ieri noi abbiamo presentato due documenti nell'ottica di occuparci di temi piccoli, perché il municipio fa questo. I due documenti erano per la messa in sicurezza di due vie. Ok. Non è il primo documento che proponiamo. Che direi dopo quello che è successo in Viale Bodio all'inizio settimana, con il ferimento, appunto, di un vigile che stava facendo servizio davanti a una scuola, tirato sotto la macchia, insomma, forse è un tema interessante. Oggi, guarda, colgo l'occasione, perché è una commemorazione che penso sia doveroso fare. Oggi alle 15.30, in Viale Argonne, viene ricordato Luca Marengoni, che è quel ragazzo di 14 anni, se non sbaglio 15, che è morto, appunto, investito da un tram. E allora, ti rubo un secondo, perché proprio su questo è uscita una notizia, appunto, ieri, la legge da Repubblica Milano, che dice oltre 100 alberi per la città, il regalo a Milano della famiglia, appunto, di Luca Marengoni, a due anni dalla scomparsa del giovane. Il progetto, realizzato dai familiari con legambiente, prevede la messa a dimora di piante al posto di quelle abbattute dal maltempo della scorsa estate, appunto. E proprio oggi si inizia in Viale Argonne con la piantumazione. Sì, alle 15.30, appunto, ci sarà Municipio 3, ci saremo noi, ci sarà la famiglia di Luca. E penso è un momento molto importante per ricordarci che, intanto, tutti dobbiamo avere la possibilità di muoverci non solo con l'auto, ma anche con altri mezzi e poi fare in modo che quella tragedia, appunto, non vada a spreco. Cioè, diciamo, che la tragedia non... Non sia inutile, nel senso, se si può trovare un'utilità, appunto, la tragedia del genere, diciamo. Non sia stata vana il sacrificio, come si dice in questi casi. Che, ahimè, non è neanche l'unica, poi, questo che... No, no, Luca è, purtroppo, diciamo, la tragedia vuole che sia... Sì, che sia in Viattito Livio, quindi era vicino... Tra l'altro ho frequentato proprio il Biennial a Leinstein, quindi ho ben presente quella strada che ho sempre percorso, spesso in bici e... E quindi, appunto... Cosa è successo, appunto, di Rissier, che cosa le state proposte e com'è stata la risposta? Sì, sono due documenti, appunto, uno su Via Cavriana, che è quella via che, da Via Le Forlanini, porta, diciamo, verso il Saini, quindi verso il centro sportivo Saini, che è una via originariamente agricola, che adesso viene percorsa a velocità sostenute perché si può, perché non ci sono dissuasori di velocità ed è un problema per tutti coloro che insistono su quella strada, quindi da... Penso a Cascin, penso a Un Vivaio, penso a Di Martini, penso a tante realtà, una realtà sportiva, un centro sportivo di tennis, e quindi noi chiediamo, abbiamo chiesto, un rallentamento su quella via e un percorso che parta dalla cittadinanza, perché Cascin poi si è offerto e lo faremo, lì da loro, per capire come iniziare a fare un intervento leggero, perché sappiamo che i tempi di realizzazione sono molto, molto lunghi. Il secondo intervento, il secondo documento, invece, è su Via Cena e riguarda la messa in sicurezza sempre, tanto del tratto, del secondo tratto, quello che va dalla rotonda all'incrocio con Via Cervignano fino a Via Le Umbria, perché è un tratto, soprattutto quello vicino al supermercato, che è estremamente pericoloso, perché molte auto parcheggiano in divieto di sosta, quindi un'intensificazione del controllo da parte della polizia locale. E poi, noi abbiamo chiesto, la proposta che abbiamo fatto è, avendo perso molti posti auto per il parcheggio di Beik, Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, per chi non lo sapesse, abbiamo chiesto di recuperare qualche posto nel primo tratto di Via Cena. Ma c'è stata qualche contestazione da parte della minoranza, io non sono solito parlare di questo, perché penso sia un argomento abbastanza stucchevoli, soprattutto per chi pensa che la politica non sia il contro, ma il per qualcuno. Però, ecco, quando mi è stato chiesto se avessimo consultato i ragazzi, la scuola, beh, anzitutto l'amministrazione ha il dovere di prendere delle scelte che a volte possono essere impopolari, ma che vanno prese. Ma poi, soprattutto, non c'è nessun ragazzo, nessuna ragazza, secondo me, che sarebbe contro stile ad avere delle auto parcheggiate, quindi non in divieto di sosta. Era, non so se una provocazione, però mi fa abbastanza sorridere che si cerchi sempre in maniera ideologica, quello che ho portato a dire ieri, di parlare di mobilità, non si parla di chi poi effettivamente vive la città. Anche perché in quel quadrilatero abbiamo appunto una scuola, c'è l'S Lunga, c'è un bel po' di movimento, c'è un asilo, c'è una media, c'è un bel po' di movimento che giustamente deve avere il diritto di potersi muovere ovunque e chiunque muoversi nella migliore delle maniere, però bisogna fare in modo che appunto ci si possa muovere senza andare a avere problemi. Cioè, il problema a Milano, poi spesso in te, vedo che questo, cioè i flussi, quando si incontrano hanno problemi. Forse quando si riescono a tenere più separati possibili, meglio è a questo punto. A me verrebbe da dire che noi facciamo ancora fatica a pensare che, scusatemi, a pensare che questo, non so se si può... E questa sia la chiave, nel senso che me lo regalò mio nonno quando avevo 12 anni, non ho più smesso, è un abbonamento che rinnovo tutti gli anni, quindi noi dovremmo iniziare a pensare che per i costi che hanno gli abbonamenti ATM, per i 60 milioni che il Comune di Milano investe sul welfare del trasporto pubblico, per tutte quelle categorie, persone disoccupate, persone con disabilità e tante altre, under 27, over 65, ecco, con un investimento del genere, con, nonostante l'inflazione, un prezzo di 200 euro fisso da 10 anni, e anche per le altre categorie, ecco, quando mi si viene a dire... Credo che il massimo che sia sono 350 euro. 3,30, sì. 3,30, appunto. E quando mi si viene a dire hanno aumentato il biglietto, il biglietto è per, non gli abitudinari come noi che prendiamo i mezzi, ma per gli occasionali, quindi dovremmo iniziare a pensare che il trasporto pubblico è una risorsa e non lo sposta poveri, nonostante... Sì, sì, chiaro, chiaro. No, vero, vero, vero. Ma soprattutto poi c'è questo tema del pensare magari all'abbonamento dei mezzi, è una cosa che io cerco ogni tanto di fare, io ad esempio non ce l'ho, ma sbaglio, lo so anch'io, farlo diventare come un servizio necessario per vivere in una città, cioè se ho fatto abbonamenti in palestra che ho usato molto meno e che sono costati di più. C'era la provocazione di un nostro consigliere, che appunto diceva, il Partito Democratico diceva, secondo me chi viene ad abitare a Milano deve essere costretto ad avere l'abbonamento. Chiaramente è una provocazione, però l'idea è, ad ATM ogni anno mancano diversi milioni di euro perché appunto non riescono a colmare il divario tra quello che arriva dai biglietti e i fondi sempre minori, nonostante l'aumento dei chilometri di vettura, che arrivano da Regione e Stato. Quindi perché non provare a pensare a una soluzione del genere? Beh, allora pensiamoci, magari adesso c'è un po' di spausa perché c'è la pubblicità, se volete trovare una soluzione noi siamo qua, 3317853555, ma torniamo subito dopo la pubblicità, appunto, parlando ancora con Davide Borghi di Municipio 4, ma non solo, la città è grande e la città, i consiglieri municipali la conoscono tutta, non solo il loro municipio e non solo il proprio municipio, ma tutta la città la conoscono perché il territorio è quello. Icoma Cose con Malavita alle 8 e 33 minuti, ben ritornati qui su Crystal Radio Good Morning Milano, Crystal Radio che vi ricordo che domani, 9 novembre, sarà in onda tutto il giorno, perché sì, con 40 anni di Crystal Radio, 35 anni di associazione di Crystal Radio, e quindi domani staffetta radiofonica, maratona radiofonica in staffetta dalle 8 del mattino fino a sera, siamo in tanti, tantissimi, ci sarò anch'io durante la giornata, quindi ascoltateci che prima o poi sentirete anche me insieme al... Io sarò in tandem con Ambrogio Curti, quindi aspettatevi le belle, ma quelli bravi vengono prima e dopo di noi. Ciao Ambrogio e ciao anche ad Alberto che ci sta ascoltando. Torniamo qui invece con Davide Borghi, Municipio 4. Allora, come faccio adesso a farti tornare al municipio senza che i tuoi cittadini mi dicono eh però non gli hai fatto parlare di quella roba lì perché tu gli vuoi bene al Davide Borghi, non gli vuoi fare delle domande complicate. Allora io faccio una cosa peggio. Tu, in coscienza di che cosa secondo te i cittadini vogliono che io ti chieda? Eh così almeno... Domande scomode. Eh sì, domande scomode che secondo te i tuoi cittadini ti farebbero. Così vediamo se ha la... intellettualmente... No, ma allora guarda, va bene, mi tiro questa zappa sui piedi. Oh, bravo. Ne abbiamo... ormai è diventata una soppopera tragicamente, ma è il tema della 73. Ancora? No! Pensavo fosse finita. È peggio lo stale di San Siro sta roba. Sì, esattamente. No, beh, allora in realtà la questione poi riguarda 88, 66, vari mezzi del TPL che sono stati... La media fa 73, diciamo, ok? Sì, arrotondando per difetto. Allora, anche qui la questione... Noi dovremmo risolvere il problema che si è creato, quindi avere la linea che a questo punto da Linate arriverà fino a Piazza Santa Maria del Suffragio. Sì, io non voglio dare tempi sempre, perché prima la politica, soprattutto municipale, sono sempre dare i tempi. Però quello che auspico è che per la fine dell'anno quel mezzo ci sia. L'altra, io vorrei fare una considerazione che penso sia molto importante. Noi non ci rendiamo conto, ieri anche l'assessora alla mobilità nostra lo sottolineava, di quanto anche un chilometro di mezzi pubblici in più cambi la prospettiva, di quanti milioni servono. Ma perché? Perché, ad esempio, in una giornata servono otto autisti per garantire il servizio su un mezzo pubblico. Perché, chiaramente, turni straordinari, scioperi e quant'altro. E quindi noi parliamo di milioni e milioni di euro. Non dobbiamo correre il rischio, e lo dico pensando a me prima di iniziare a fare politica, di banalizzare. Banalizzare la politica, banalizzare il ruolo di chi fa politica, è un problema proprio per le persone. Perché negli anni noi abbiamo fatto veramente tanta fatica a pensare, e lo facciamo tuttora, a pensare che chi fa politica abbia un lavoro, sia un mestiere. Perché? Perché facciamo fatica a vedere quello che di concreto le persone fanno. Cioè, se tu hai un idraulico che ti deve venire a casa a mettere a posto un tubo, e tu gli paghi l'uscita, ma il tubo non te lo mette a posto, tendenzialmente non lo paghi, no? E dico, non è stato buono a fare il suo lavoro. Esatto. Il meccanismo simile, con la politica, avviene attraverso il voto. Tu mi tiri via la 73 e non sei un buon politico. Cioè, il concetto è quello, no? Sì, esattamente. Il ragionamento è quello, scusa. Però, chiaramente, per mettere a posto un tubo ci sono dei problemi, no? Non so, c'è l'acqua che non arriva, c'è una chiusura, c'è un... Ecco, a volte noi facciamo più fatica a capire le difficoltà che ci sono nella macchina amministrativa piuttosto che quelle di mettere a posto un tubo, secondo me. Ok. Un tubo è proprio nel tubo, non nel senso un tubo. Sì, sì, sì. E quindi, ecco, quello che mi sento di dire a chi ci ascolta è non banalizzare. Non banalizzare il lavoro che viene fatto, sia perché a livello municipale veramente c'è la massima disponibilità. Noi siamo molto, nonostante poi ci siano dei confronti, ma il dibattito è parte della politica, ma la vedazione si trova sempre, penso a ieri, noi abbiamo accettato tre emendamenti su cinque, gli altri due erano un po' ideologici, li abbiamo rifiutati, però c'è massima collaborazione, perché poi c'è un'idea, chiaramente, di politica. Però siccome l'ideologia non c'è più e rimane l'idea, sarebbe importante se effettivamente noi iniziassimo a pensare che la politica è un lavoro. Ma quindi, fammi capire, la 73, non tornerà quella di una volta sicuramente, però si riuscirà un attimino a mitigare queste nuove modifiche. Sì, sì, è stato un lavoro portato avanti il Consiglio Comunale dal capogruppo e che giustamente ha detto, voi fate le mozioni all'opposizione e ci mettiamo i soldi, perché poi era un emendamento al bilancio, quindi un milione di euro messi su quello e non su tante altre cose, e quindi sì, arriverà... Perché questo scherzetto, diciamoci, costa un milione di euro, questo prolungamento della linea. Poi noi sappiamo benissimo che il bilancio, mi pare, sia di 3 miliardi del Comune di Milano. Sì, sì, chiaro. E sappiamo però, forse molti non lo sanno, che il Comune ha, mi pare, 40 miliardi di debito, che piano piano risana con un piano di rientro che appunto viene ogni anno presentato con una riduzione, per fortuna, dall'assessore al bilancio del Comune di Milano. Ma poi quando mi si viene a dire, uno dei death motive delle persone è ma io pago le tasse, io devo avere... È vero, è verissimo, è verissimo. Però noi dovremmo avere più cura della cosa pubblica perché è di tutti. Non pensare, siccome è di tutti, allora me ne frego. Sai quante foto noi mandiamo di segnalazioni che ci vengono fatte per cartacce e lasciate in giro? Allora, noi dobbiamo iniziare a pensare, secondo me, che se il bene è pubblico vuol dire che è anche mio e quindi lo tratto ancora meglio magari di come tratterei il mio bene privato perché lo usa un altro. Perché quel pezzo di strada lo percorre anche qualcun altro, ad esempio. Chiarissimo, chiarissimo. Insomma, il bene comune è di quei temi davvero complicati e che però bisogna fare in modo che la gente ci sia passione. Quindi insomma, so che la politica soprattutto municipale, soprattutto territoriale spesso metri fa qualcosa anche in questa direzione. Andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo ancora qui, però Davide, perché ci sono tanti altri temi da affrontare. The Bomb, The Bucket Heads, qui alle 8.42 minuti su Crystal Radio Good Morning Milano. parlavamo di mobilità, parlavamo anche di cose scomode. Allora ti dico, caro Davide Borghi, consigliere municipale del Municipio 4, usciamo dal municipio, visto che tu vuoi avere una visione giustamente, perché poi i municipi sono lì, ma poi devono avere una visione su tutta la città, perché poi non è che i confini, c'è anche i muri, quindi insomma, anzi, ormai non è neanche più comune di Milano, e forse città metropolitana, forse, anzi ancora più regione, se non comparto Nord Italia, mi vorrebbe da dire. Il tema della mobilità per molti è anche Trenord, le ferrovie Nord, è la mobilità appunto dall'esterno della città ad entrare in città e viceversa, è il fatto però che la politica, posso dire un po', su questa cosa ci marcia dall'una o dall'altra parte, nel senso che noi siamo un po' stufi di sentir sempre dire, e anche stesso tema sulle case popolari, ma adesso parliamo di mobilità, e ma no, quella roba lì è colpa di regione perché è Trenord, e no, quella roba lì è colpa del comune perché è MM, perché è ATM, cioè, ecco, allora, si può riuscire a capire come potremmo trovare una soluzione, ad esempio, al grande bubone che c'è su Trenord, senza dare la colpa sempre solo a me, non è colpa mia, è colpa tua? La politica del contro ha stufato, penso sia sotto gli occhi di tutti, perché sono dalla caduta della prima repubblica, quindi da mani pulite che c'è un continuo rimpallo. Sulla tema, poi, di Trenord, il problema non è tanto, e lo dico con la consapevolezza che in realtà ce ne sono tantissime soppressioni, non è tanto dalla città metropolitana, quindi dalle città della città metropolitana, a Milano, o viceversa, ma è tra le città della città metropolitana, cioè, in tutte quelle città, i casi purtroppo più difficili possono essere Legnano, ad esempio, o Paraviago, non me ne vogliono chi abita lì, ma c'è una difficoltà estrema di spostarsi da una città all'altra, e questo è legato al fatto che negli ultimi trent'anni l'amministrazione che governa la regione Lombardia è la stessa, ma questo non significherebbe nulla, perché anche in Germania Merkel ha governato quindici anni, ma il tema è come si gestisce poi il trasporto pubblico, se i treni rimangono più o meno sempre pressoché quelli, se non c'è un rinnovo proprio del comparto, come è stato fatto, ad esempio, in Emilia Romagna, non perché governassimo noi, ma perché si è deciso di partecipare a un bando e cogliere l'occasione di un bando europeo per il rinnovo del trasporto pubblico su rotaia. Quindi, se noi vogliamo affrontare il tema in maniera seria, in modo seria dobbiamo dire innanzitutto che noi abbiamo un problema, nel senso che mi pare il 50% delle tratte di trasporto ferroviario in Lombardia sono a binario unico, se non ricordo male. E quindi questo è un dato di fatto. Bisogna partire dal presupposto che la sovrastruttura che si è creata attorno alle stazioni, cioè le città, le persone, gli edifici, ha creato inevitabilmente problemi alla realizzazione di nuove tratte ferroviarie, e però dobbiamo anche dirci che non è accettabile utilizzare treni sporchi, non sicuri, soprattutto da chi ha fatto della sicurezza una bandiera, con la mia consapevolezza che la sicurezza è un tema trasversale. In più c'è anche quella cosa della paura indotta, viene da dire, del oddio non so se poi arrivo a tempo col treno, ma lo prendo o non lo prendo, ma poi arrivo tardi, che poi ti porta a usare la macchina magari. E quindi poi c'è tutto il tema della congestione. E poi c'è un tema, è un cane che si muove della coda, perché poi area B diventa il problema, e quindi si manifesta contro area B, ma non tanto se le persone potessero entrare a Milano, poi mi dirò chi ci ascolta, ma se un cittadino, una cittadina che abita ad esempio, che ne so, a Lignano, ma Parabia come l'ho citato prima, potrei dire Gessate, potrei dire Gorgonzola, venisse a Milano con dei mezzi che non sono in ritardo ogni 3x2, non rischia se ho tantissimi, frequento l'università, ho tantissimi compagni e compagni che vengono a Milano prendendo i mezzi pubblici e non sanno se riusciranno a dare l'esame, se parteciperanno all'appello d'esame, perché non sanno se arriveranno in orario. È spaventoso, perché poi se lo mettiamo invece sui lavoratrici e lavoratori, questo vuol dire chiedere straordinari, chiedere permessi, magari a volte non retribuiti, perché Trenord non funziona. Non funziona ed è sotto gli occhi di tutti e di tutti da tantissimo tempo e questo mi porta a dire che probabilmente un rinnovamento di chi governa Regione Lombardia, poi vedremo se ci sarà la possibilità a questo punto, con il prossimo mandato nel 2028, se un cambio sia auspicabile per effettivamente cambiare le cose. Qua non è più un tema di destra e sinistra, per me, ripeto, è molto molto stucchevole, è un tema di idee, perché qua le idee non ci sono. Qua non c'è proposta politica, qua non c'è volontà di andare incontro alle persone. Bene, allora, 8 e 47 minuti, da due minuti è scaduta la fascia di garanzia anche per le metropolitane 1, 2, 3, 4 e 5. In questo momento l'unica linea garantita garantita è da San Babila a Forlanini a Linate per la M4. Al momento ATM non ha ancora dato però nessun dato, quindi adesso rimaniamo un po' qui con gli occhi sul sito e sulle comunicazioni di ATM. Nel frattempo un po' di musica e poi torniamo qui ancora con Davide Borghi del Municipio 4. Giorgia, Giorgia, niente di male. Giorgia, che ieri sera avete visto sicuramente la conduzione di X Factor, non ditemi come è finita perché non ho visto la puntata, quindi non so che è uscito, non ditemelo per favore, ok? Poi, infatti, non sto guardando niente su Instagram per quel motivo. Segui X Factor, Davide? In realtà no, io non lo vissero, ero in municipio. Ma tu sei più uno che segue sport, giusto? Sì, beh, pratico sport, ma da tanti anni. Tu pratichi pallonuoto, giusto? Dove, dove, dove? Non pratico ancora? Poi adesso no, adesso so che stai studiando. No, 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 vado avanti, vado avanti, ho giocato al Cus Milano diversi anni, da quando ero in seconda media, poi sono passato a pallonuoto Milano, che è veramente un bellissimo progetto che ha messo in piedi i miei ex compagni, e adesso gioco alla Coppa Arma e appunto continuo, Come sta andando? Bene, ho iniziato due giorni fa. Il campionato è iniziato? È a gennaio, la serie cinza gennaio, la serie D a marzo, devo capire ancora, più probabilmente giocherò per la D, però vediamo. Insomma, anche sportivo, ecco questo che succede appunto con i nostri consiglieri municipali, prossimi appuntamenti nel municipio che sono da non perdere, qualcosa? Beh, a me viene in mente, se vogliamo parlare di grandi opere, noi abbiamo l'ex macello, quindi tutto, un'area enorme che va, diciamo, tra la nuova biblioteca di Calvairate e l'ortomercato che piano piano va avanti, vanno avanti i lavori, soprattutto adesso sulla Vicuni, quello che è la parte che va su, che dà su Via Lombroso, e quello è un intervento importantissimo di rigenerazione urbana che appunto porterà lì lo IED, porterà lì veramente un quartiere nuovo, diverso e più bello. e abbiamo Beic, che continuano a portare avanti, che è appunto quella biblioteca di cui parlavamo prima, per cui poi è stata chiusa anche Via Monte Ortigara e il controviario di Via Le Molise, i lavori vanno avanti, dovrebbero concludersi per le Olimpiadi Invernali del 2027. Ah beh, insomma, tanti tanti temi appunto che sono aperti sul municipio, Davide, siamo arrivati alla fine, devo ringraziarti e salutarti. Grazie a te, grazie a chi ci ha seguito da casa. Dacci le tue coordinate per seguirci, per seguirti, scusa. Dunque, mi trovate, beh, la mia email è davide.borghi1, chioccelacomune.milano.it e poi... C'era un altro Davide Borghi per quello punto. Beh, sì, sì, immagino di sì. E poi mi trovate, in realtà non ho mai avuto Facebook, quindi non mi trovate lì, però su Instagram, esatto, D.Borghi underscore M4, ho aperto da poco un profilo solo dedicato al municipio, perché mi piacerebbe parlare. Attenzione, perché non è un fan della metropolitana 4, ma è per municipio 4. Esatto, però sì, la metropolitana 4 la prendo. Però ti piace per la metropolitana 4. Sì, non so se oggi appunto potrò, però... Vedremo, vedremo, adesso infatti, pochi, fra pochissimo, l'ultimo aggiornamento sulla sigla, vi diamo gli ultimi aggiornamenti da TM per sapere appunto come va la situazione. In questo momento le metropolitane sono ancora regolari, così dice. Allora torno a casa. Non è vero, dopo la quattro 5 chiudono M1, M2, M3 ed M5, tra tre torri e San Siro è chiusa, aperta M4, invece tutta la linea. Useremo lo sharing, che non sarà molto bene. però la M5 al momento è aperta da tre torri in là, comunque, invece M1, M2 ed M3 chiuse tutte quante. Ciao Davide, grazie mille. Grazie a voi. In super ritardo, alle 8 e 58 minuti, finisce la puntata di oggi, di venerdì, di Good Morning Milano. E quindi, chiedendo scusa a chi viene dopo di noi, chiedendo scusa al giornale radio e ad Ambrogio Curti che viene dopo di noi, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, Thanks God, it's Friday. Situazione della metropolitana in questo momento abbastanza critica perché così risultano M1, M2 ed M3 chiuse, quindi tutti i treni in viaggio in questo momento stanno arrivando a destinazione, dopodiché non ne partiranno altri. L'M5 chiusa tra tre torri e Stadio San Siro Stadio, invece funzionante tra tre torri e Bignami. L'M4 al momento resta in tutta la linea appunto in servizio tram, bus e filobus a servizio ridotto, quindi come dice ATM considerate maggiori attese alle fermate. Grazie mille, noi ci sentiamo lunedì sempre qui in diretta su Crystal Radio, ma domani Maratona Crystal Radio dalle otto del mattino fino alle ventidue e passa, siamo tutti lì, tutto il giorno, una staffetta di speaker per raccontarvi Milano, per raccontarvi la grande musica, per farvi conoscere appunto al meglio la nostra grandissima radio, quale questa Crystal Radio. Ciao ciao, quindi a domani con la Maratona dalle otto di mattino si inizia. Ciao!